Importavano banconote false dalla Nigeria un vero e proprio sodalizio criminale teso all'introduzione e la circolazione da pezzi da 100 dollari statunitensi sul territorio italiano. Con questa accusa la procura di Piacenza ha disposto l'arresto di 19 persone, cittadini italiani e stranieri tra cui 8 piacentini, tutti piccoli imprenditori e titolari di esercizi pubblici attivi sul territorio finiti in manette per associazione per delinquere, finalizzata l'introduzione nello Stato e spendita di banconote falsificate. Le indagini della procura coordinate dal dottore Emilio Pisante sono scattate a febbraio 2013 in seguito alla segnalazione di due versamenti sospetti da circa 7.000 dollari l'uno in altrettante filiari bancarie di Piacenza effettuate da un commercialista della città. Partendo da questo episodio i carabinieri del nucleo investigativo sono riusciti a smascherare un gruppo ben organizzato al cui vertice sono stati individuati un nigeriano residente nel Mantovano e un italiano domiciliato a Piacenza in grado di operare tra l'Italia settentrionale e l'Africa occidentale. Le partite di contanti falsi il cui importo variava dai 7.000 ai 10.000 dollari venivano occultate da oggetti di uso comune quali medicinali di erboristeria, riviste o custodi per cd musicali sigillate in plichi e inviate regolarmente in Italia tramite ignare società internazionali di spedizione. L'importo stimato del traffico di banconote false si aggira intorno ai 170.000 dollari. Sulle banconote finite nelle mani dei carabinieri sono stati eseguiti accertamenti che hanno riscontrato la particolarità della contraffazione. L'organizzazione utilizzava vere banconote da un dollaro attraverso un sistema di sbiancatura che le ripuliva completamente e in un secondo tempo utilizzava lo stesso materiale per stamparvi sopra l'immagine ben più preziosa dei 100 dollari. È nata dalla singola spendita di una singola banconota, potevamo già denunciare in quel momento il soggetto, abbiamo preferito invece risalire la china e condurre l'indagine in tutti i suoi aspetti. A distanza di qualche mese siamo riusciti a disarticolare questo soddializio criminale che era particolarmente insidioso nella tecnica utilizzata. Tra gli arrestati per la maggior parte italiani ci sono sia soggetti pregiudicati che incensurati. Quest'ultimi, ha chiarito il procuratore della Repubblica Salvatore Cappelleri, hanno giocato un ruolo fondamentale nella diffusione del contante contraffatto. Le perquisizioni nelle abitazioni dei sospettate hanno consentito agli investigatori di raccogliere ulteriori elementi a sostegno del traffico illecito. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite ieri nella provincia di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Milano, Como e Mantova. La particolare metodologia di contraffazione fino ad oggi non era mai stata censita a livello internazionale e ha suscitato il diretto interessamento delle autorità statunitensi. Le indagini sono ancora in corso.